Ma una sorta di suicidio assistito, una serie di scelte sbagliate nel tentativo disperato di tenere unito e compatto un partito che unito e compatto probabilmente non l'ha mai stato e che oggi a fronte del primo banco vero di prova rispetto ai temi della tenuta del sistema paese dimostra i propri limiti, ovviamente oggi abbiamo scoperto definitivamente, noi lo sapevamo, l'hanno scoperto gli italiani che il PD non era nelle condizioni di poter governare questo paese. Partito democratico uguale PD, io faccio uguale partito distrutto, è inevitabile che ormai questa fusione fredda tra democrazia cristiana e vecchio partito comunista sia consumata e il paese purtroppo ne sta subendo le conseguenze. Speriamo riescano a trovare la quadra e anche noi siamo della partita per quello che possiamo fare, però il paese ha bisogno di un Presidente della Repubblica e di un governo. La incapacità di tutto questo sta proprio nel PD che difendevano tante cose, tante situazioni, ma purtroppo si sta verificando che non riescono a fare niente. Mi metto nei panni di tutti quegli elettori che in buona fede, non portati a forza dalle segreterie di partito, si sono recati a novembre e poi anche a dicembre nei giorni di festa dando un obolo di 2 euro per votare queste persone. A loro va il mio pensiero e speriamo che la prossima volta, soprattutto quelli del nord, riconoscono che gli unici che cercano di fare i loro interessi sono i leghisti e che quindi noi aspichiamo che questa classe dirigente se ne va da casa il primo possibile perché ha dimostrato con i fatti di non sapersi accordare per l'interesse del Paese. Sono dei pazzi, veramente stanno pensando solo alle loro cose interne, non stanno pensando al bene del Paese. Il Paese e lo Stato stanno fallendo, ci sono tantissime aziende che stanno chiudendo e loro invece di pensare a problemi concreti si stanno scannando per problemi di correnti e di carrega. Ebbè, con una battuta è andato molto male, quello sicuramente. Stiamo vedendo da parecchi mesi il disfacimento del PD, anche nel Torinese da diversi anni si è contraddistinto nella lotta col NOTAV sul territorio e sul CTAV istituzionale. E anche qua in campo Montecitorio si sta vedendo le divisioni, divisioni politiche, ideologiche di un'unità che hanno voluto scimmiottare e fare artificiosamente a tavolino. Oggi i deputati e senatori del PD non si ritrovano più nella dirigenza. È ora di andare a casa e andare direttamente alle urne per far rimettere il mandato agli elettori sicuramente dopo il voto del Presidente della Repubblica che sarà in queste giornate.